5 motivi per cui un ospite non distruggerà la tua casa su Airbnb. Sia che questa sia gestita da un property manager professionista, sia che tu la pubblichi in maniera totalmente autonoma. PS, tutto ciò non accadrà se sai come gestire gli ospiti, come gestire tutto quello che ti dirò e se conosci i trucchi del mestiere. Motivo numero 1, innanzitutto siamo tutelati da una assicurazione sino ad un milione di dollari che ci offre direttamente Airbnb. A patto di saperla usare, chiaramente questo è un ottimo strumento che ci permetterà di essere tutelati anche contro dei danni accidentali. Un bicchiere può cadere a chiunque, Una doga del letto si può rompere per sbaglio anche all'ospite più attento e per qualunque caso sino ad un milione di dollari siamo assicurati direttamente da Airbnb. Una società presente in tutto il mondo con miliardi di fatturato, indi per cui non ti preoccupare, sei in ottime mani, soprattutto se sei studente Airbnb Academy o se colui che vuole gestire il tuo immobile è uno studente Airbnb Academy. Perché all'interno di Airbnb Academy spieghiamo per filo e per segno come sfruttare al 100% questa polizza. Motivo numero due, tutti gli ospiti prima di soggiornare nel tuo immobile hanno il documento di identità verificato direttamente da Airbnb. Esatto, per prenotare un immobile è praticamente obbligatorio mandare il tuo documento di identità ad Airbnb, Airbnb te l'approva e a quel punto potrai prenotare un qualunque immobile e se una persona ha caricato il proprio documento ci penserà 10 volte prima di fare un danno. Perché? Perché c'è il suo nome di mezzo, perché c'è un suo documento ufficiale e quindi potrebbe anche essere perseguito penalmente. Motivo numero tre, molto simile a quello di cui abbiamo parlato poco fa, è quello che anche noi avremo possesso del documento dei nostri ospiti. Perché? Perché per legge noi siamo obbligati a caricare i documenti di queste persone sui portali di polizia ai fini dell'antiterrorismo e quindi anche noi avremo il documento di questa persona e se effettuerà un danno glielo possiamo gentilmente ricordare. Guarda che ho il tuo documento, ho tutti i tuoi dati, qualora non mi ripaghi del danno potrò denunciarti. Ovviamente sarebbe un processo lungo, dispendioso e c'è anche l'assicurazione di Airbnb in ballo, però può essere un ottimo deterrente per farsi pagare in maniera immediata e senza troppi problemi. Punto numero quattro, se hai un immobile di elevato valore puoi anche impostare una cauzione su Airbnb. Una cauzione che potrà essere riscossa in caso di danni o che potrà esserti data in contanti all'arrivo e potrai restituire al termine del soggiorno. Ovviamente un ospite consapevole che questa somma è bloccata sulla sua carta di credito o che tu possedi del suo denaro ci penserà cento volte prima di effettuare un danno perché hai del suo denaro in tuo possesso sotto forma di cauzione. E punto numero cinque, non per questo meno importante, Airbnb a differenza delle maggiori piattaforme di prenotazioni mondiali permette di recensire anche l'ospite. Quindi non solo l'ospite può recensire la struttura ricettiva presso la quale ha soggiornato ma anche la struttura ricettiva può recensire l'ospite. E ovviamente se un ospite si comporta male la struttura ricettiva lo recensirà in maniera negativa. E se io recensisco in maniera negativa un ospite molto probabilmente anche gli altri host non lo faranno più soggiornare. È come se venisse marchiato a fuoco e nessuno vorrà più ospitarlo. Ecco perché tutti gli ospiti, io compreso, quando soggiornano in un'altra casa cercano di far filare tutto liscio come l'olio e di non arrecare danni. Se qualcuno mi lasciasse una recensione negativa un domani potrei avere difficoltà a trovare un altro alloggio nel quale soggiornare. Spero che questo video ti sia piaciuto se vuoi scoprire tanti trucchi del mestiere e come puoi entrare anche tu in questo business ad investimento zero senza possedere immobili e senza partita IVA in maniera 100% legale clicca il link che trovi qua in basso preparato un webinar per te. Ci vediamo dentro B&B Academy. Ah, e non ti dimenticare di iscriverti al canale. Ciao.